E a sto punto la lunetta non si cambia dai No no, andiamo alla, andiamo alla, senza problemi Anche il bunker quello con il boss Nuovo mi piace, non è male Con la spada Sì, ma vabbè, la spada è incredibile La spada è troppo forte Eh lo so, è veramente bella, a me mi è dispiaciuto un sacco quando l'hanno tolta La spada, quella cinetica normale Quella viola Però sai che c'è, se tu ci pensi effettivamente un perk così forte Cioè un'arma così forte Che forse una in tutta la mappa ci può stare Per dire, no? Sì Cioè ci può stare Forse minima erano un po' troppe Ma il problema è sempre Fortnite che mette troppa roba Sì, sono quando fanno, non è che ce ne mettono una Fanno mille roba Eh, le mettono, ah, cinque Tipo quando hanno messo il martello io volevo vomitare Troppo forte Il martello era incredibile Cioè in Nei tornei ti giuro Era troppo, troppo forte No, nei tornei Magari nel boxato c'è tipo di 40 piani Ok, ho la card Vai, vai, vai Mi prendi i cosi Mi prendi i cosi Lorenzo, eccomi Sono riuscito Mi sto mangiando Se volete bene Cazzo esci sempre Lore, grazie mille a te Lorenzo Prendi Marty Buono Genta che sta volando, non si capisce niente Ah, sono sotto Sotto? Sì, sì, perché l'hanno Sono stati spottati dal Sì, 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 sì Siamo? Vuoi entrare da qui? Dai Sono saliti ora forse Vieni qua, vieni, vieni Vai, vai, vai Eccolo Eccolo Bianco Ti sfrutta? Eeeh, buonasera E l'amico lo vuole salire sopra E quello è dalla porta a destra Gli ho dato un calcio in faccia Gli ho dato Sarà bellissimo Quello sta vomitando dal nervoso in questo momento Non ci credo Quello lì mi sembra un triardino incredibile, te lo giuro Ma qua? Sì, sì, è proprio lui, proprio lui Proprio, ora gli sparo 28 80, craccato White, grazie mille per l'abbonamento, white Cioè, andiamo alla casta Potremmo andare alla cache? Sì, sì, si andiamo alla cache Facciamo stare Sì, ho capito Ah, sparo nei bot Eh, a me ma non sparo No, stanno qua, stanno qua Altro che bot, Marty 71 Marty, qua rischiamo di trovarci Entro un panino fotonico Sì, sì, ma infatti direi di andare via Qualcuno è stato rotto il culo qua davanti Arti colpi il pompa qua, se vuoi C'è dell'ancarazione Sì, 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 vista, grazie Eba dai Mortacci quanto ci mette Madonna, ma è troppo Ma il gioco deve essere veloce, no? Così Chi ha fatta, Mortacci? Mamma mia Allora, qua c'è il ferro 250 Guardi, io potrei impazzire Sì, classica roba, classica roba questa Io potrei veramente impazzire Senti Ah, guarda che ci sa l'amico nostro Devo fare un po' di materiale Vai, vai Arrivano 33 Vado a sinistra che mi faccia un po' di mazzo Mi piace, sembra che fai tipo Sembra che fai roleplay Ti giuro Forte nel roleplay by CiccioGamer, ragazzi Qua, Marty 33, 33 30 Guarda dietro col veicolo 250 Fatti questa Faccia qualcosetta Dobbiamo andarcene tanto Sì, 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 andiamo via Bello sta roccia 99 Senza senso Sì, poi sono delle rocce inutili Che ti danno tipo 25 Ci ti metti tipo 20 picconate Questa zona è fantastica Se trovo un botto di roba buona Eh, io qua ce l'andavo tantissimo all'inizio Poi Poi niente Per i tornei va meglio di nostra Questa zona Guarda, se poi ci servono cure C'è anche il perk da prendere Lo sto tenendo apposta Gente da me? Guarda, forse è da solo Però non è una chiamata a 100-100 Ok, io vado Io vado da dietro Ecco, sto scappando Carcato, 110 La tipa con i capelli rosa Va bene Sono due, sono due Vuoi che vengo? Si sono fullati Ah, stanno fa questi 50 fortini, c'è Sì Vabbè, Marty Andiamoci ne via Ah, no, via Tanto il c***o l'abbiamo rotto Hanno fatto letteralmente No, letteralmente Hanno fatto 12 splash Aspetta, ancora stanno là Non hanno tirato la testa fuori Te lo dico Immagino Sì, sì Stanno ancora là dentro Tranquilli loro Stanno a fare cose sconce? Sì, sì Adesso a nostra fortini Minchia Ma come? Siamo tornati Fortnite Dei cinque anni fa Eh, sì Ultimamente Ranked Giocano a belli cattivi Perché vogliono fare la real Porco ciò Vabbè Andiamo se Vabbè, ci sta A me non hanno un obiettivo E non giocano a c***o di cane No, no Ma neanche a fare i fortini fuori safe Sì, sì Quello è un po' troppo È vero Sono tutti boxati Te lo giuro Non si trova nessuno Sono fermi Sono fermi Sono fermi Sono fermi Cioè, per trovare uno Diventa proprio dentro casa Guarda qua Però sicuramente Stanno fidando con qualcun altro Perché non ha senso Eccoli 38 Cos'è che non ci conviene mai Fare così, vero? Dici una bella cecchina da in fronte Ah no, ma perché Questi aspettano Che noi fatiamo, capito? Cioè, per farti capire L'altro inferro Noi il legno del massello Buildiamo Ma sì Noi buildiamo il legno Perché siamo i boss Esatto Noi ce lo possiamo promettere Stiamo sempre in safe o sbaglio? Sì, sì, guarda Comunque ci hai fatto caso Sicuramente l'avrei detta pure Sta cosa al 100% Secondo me C'è qualche cosa Che stavolta per Halloween Non hanno fatto proprio niente Nella mappa Niente Ma guarda Io o è Fortalent Che si sta preparando A veramente A qualcosa di incredibile Oppure sono stati licenziamenti Che l'hanno portato a Che non hanno avuto Cioè, non hanno avuto più gente Che per fare queste robe Esatto Esatto Eh, perché è il primo Penso evento di Halloween Dove non c'è nulla Martì, ma Fortnite Sono gli eventi Cioè, Fortnite È l'evento di fine season Cristo Dio Con le animazioni Con le cose Quello è Fortnite Ma da quanto è che non li fanno? Eh, da Eh, dai Da una vita ormai Perché una volta Quando c'erano quelle Quelle cinematiche là Era proprio Dai Martì, dai Cioè, secondo me Sono cose che non Ma no Ma quello è un modo Anche per radunare La community E gli streamer Cioè 26 Oh, stiamo sempre safe Eh Ah, è incredibile Vabbè, qua al massimo Se vuoi fammo un impulso Insieme E qua, Martì, 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 Martì Martì 59 caccato Eh, lo so Perché non lo so Oh, forse nel bush No, ok Ma non conviene, Martì Io mi andrei in zona Io ho 80 medi Quindi tra poco Ok, andiamo, andiamo, andiamo Ho 21 comunque Sì, sì Ne siamo tantissimi Andiamo di qua Che dovrebbe essere proprio vuoto Cioè Lo sai che dovremmo andare Un pochino più avanti a sinistra Perché dietro di noi Ci stanno tipo 698 team Infatti mettiamoci qua E siamo tranquilli Tipo anche lì Il capannone sarebbe di Cristo È in zona? Sì, più o meno sì, dai Però c'è gente sotto Sì, allora qua Va bene qua Va bene anche qua Va bene anche qua Uno nel cespuglio Così Dietro di noi 160 Uno hit Un hit Morto, morto, morto Come dovrebbe andare, sai? Eh, ma è pieno di team È pieno di team, Martì Per finirne uno Non mi morire Ma che te frega A vero Un po' di mazza E vedi quanta gente c'è qua Ah, io ce l'ho, eh Se vuoi i mazzi Io ce l'ho, eh Ok Boh, provo, spero No, no, no Posta, passa, passa Martì, bianco Ha fatto Bravissimo Oh, direi noi c'è la safe Incredibile, mi metto a piangere Eh, per una volta ce l'abbiamo Incredibile Qua, sai cosa possiamo fare, mi? Una bella corsetta E ci mettiamo sul capannone Eh Guarda, se vuoi vado subito Vai, andiamo, andiamo Ci tiriamo proprio all'high ground 66, volano, 96 Un hit Guarda, volano tantissimi 37 La nostra destra One shot Quella lì Quella lì One shot Laura 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 non c'è È andata via Bianco pure quello Martì C'ha tipo Zero di vita 70 Ok, Martì Pago un pochino Naig Vai, vai Mamma mia Se stanno veramente a rovinare Martì 100 Un altro 40 Un altro Peccato letteralmente Per i colpi medi Lì devo uscire uno Mi Guardi, volo Guardi, volo Carcato Carcato Fatto Ok, quel loot No, non l'ho già preso Niente Martì lì Fatto Lì, Martina Ok, vado io Vado io Vado io Arriva Tranquilla Eh, minchia Martì C'è andata pure Mi nonna Bianco Martina Uno Tranquillo Morto uno Martì Dentro al cespuglio Ok Mi Hai la scopa? Sene Andiamo Andiamo in zona Hai medi? Fatina Fatina Faccio un impulso Con te Faccio un impulso Con te Vieni Stendo l'hig Sì Hig mio Hig mio Hig mio Marti da me Andate via Io sono sopra Io Ma è, sono morta No, ti sono soviva Sono qua Mi? Ma basta Vincolo Non ha più cure di vita Mi Zero Ho zero cure Tieni, tieni Marti Grazie Mi Prego Chi? Io ho materiale Vabbè, ho ancora un pochetto Salgo sopra Faccio troppare l'hig Vai, vai, vai Morto uno Noc Fatto, martì Bravissimo 2v2, 2v2 Li butto fuori zona Buttati fuori zona Butto fuori zona ancora Morto uno I migliori I migliori ragazzi Bravissimo 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 Dai, Marti DG Trombati Trombati proprio Bellissimo Ma no, perché dai Ripeto È una cosa che io devo buildare Ma in endgame così Me la cavo veramente bene Ti trovi bene Sì, sì, sì Ma ci ho fatto a casa Mi trovo benissimo Mi trovo benissimo Con qua i slurp Mi hai salvato proprio Ti giuro Avevo 30 HP Ma io gioco molto di squadra Lo sai Preferisco boostarti a te Quando posso E mi piace un bottom Perché comunque la rotation Non la so fa, capito? Cioè non è che so Sì, sì Ma infatti ti sento in endgame Molto più Come dire Tipo a più il tuo agio Tipo a più il tuo agio